Buonasera dal telegiornale di Telemolise. La sentenza di Bari che è assolto da ogni accusa il direttore di Telemolise Emanuela Petescia e il magistrato Fabio Papa solleva una questione di compatibilità delle funzioni del governatore Paolo Frattura. Lo ha evidenziato il deputato Danilo Leva che ha invitato il presidente della regione a fare un passo indietro e a una seria riflessione. L'intervento nel corso della presentazione a termoli del movimento democratico e progressista e l'invito a organizzare primarie di coalizione per le prossime elezioni regionali. Il servizio di Fabrizio Occiomero. Una vicenda grave e complessa che rappresenta una pagina buia della storia democratica della nostra regione. Così il deputato Danilo Leva all'indomani della sentenza che è assolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste il direttore di Telemolise Emanuela Petescia e il magistrato Fabio Papa. Una riflessione in apertura dell'incontro organizzato a termoli per lanciare la campagna di tesseramento di articolo 1 movimento democratico e progressista che apre nuovi scenari. Sovrapporre in questo modo anche così come dire sguaiato piano giudiziario e piano politico è stato un grande errore. Questa è una vicenda nata male è finita peggio che pone anche un tema di compatibilità del presidente con la funzione di governo che esercita cioè ha trascinato in tribunale le istituzioni più rappresentative e della regione perché la regione si è costituita parte civile e poi anche la presidenza del consiglio dei ministri perché si è costituita parte civile. È clamoroso ecco. Io ritengo che una riflessione vera su questo profilo di compatibilità all'interno del centro-sinistra vada aperta perché è un precedente cioè lo potrebbe fare davvero con qualsiasi altro avversario. Ma a suo avviso Frattura cosa dovrebbe fare? Ma un passo indietro. Un passo indietro per le motivazioni che ho detto. Le missioni? Ma sì, ma sì. Ma sì perché cioè quel clamore quando c'è stato il rinvio a giudizio l'aver caricato così tanto con un significato politico un'altra vicenda finita in quel modo cioè non è che l'ho caricata io, non è che sono stati i suoi avversari a caricarla in quel modo e di quei significati. È stato lui. È stato lui. E si è giocata con l'ultimo briciolo di credibilità che gli era rimasto. È detto con grande sincerità. Leva quindi approfondito il percorso che porterà alle prossime elezioni regionali con una forte critica al Partito Democratico auspicando delle primarie di coalizione aperte al solo centro-sinistra confrontandosi con il consigliere regionale Francesco Totaro Augusto Massa e i referenti territoriali del Movimento. Noi siamo nati per riunire il centro-sinistra e per chiamare a raccolto un popolo che si è sentito tradito dalle politiche e che il governo Renzi ha posto in campo e che il governo Frattura ha posto in campo a livello regionale. Renzi ha a livello nazionale e Frattura a livello regionale. Perché si è sentito tradito? Perché è stata tradita la sanità pubblica, perché è stata tradita la scuola pubblica, le ragioni del lavoro e così via. Oggi l'unico strumento che ci può essere per provare a rimettere insieme i pezzi e per provare a ritrovare le ragioni dello stare insieme sono quelle delle primarie. Sottrarsi a questo significa assumersi la responsabilità di una rottura. Ovviamente le primarie è dentro una coalizione di centro-sinistra, quindi Forza Italia sta fuori da questa coalizione. È essere chiaro. Scenari politici, alleanze e candidature in vista delle regionali. Se ne è parlato a Moby Dick, la trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi. Il clima già caldo per la campagna elettorale. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Febbraio non è poi così lontano. I partiti e i movimenti hanno i motori già belli caldi per le elezioni regionali. Si annuncia una campagna elettorale rovente, in una regione dilaniata da mille problemi, su tutti quello del lavoro. Sono poi tante e pesanti le contestazioni all'attuale governatore Frattura, su più fronti e da più parti. Centro-destra e centro-sinistra cercano rispettivamente per la propria parte la quadratura con alleanze e candidature. Il Movimento 5 Stelle non sta a guardare. Lo scenario si presta più letture proprio di attualità politica e candidature al vertice della regione. Si è parlato nell'ultima puntata di Moby Dick. Tema controverso soprattutto nel centro-destra, quello delle primarie ed è spuntata la candidatura di Rosario De Matteis. Noi stiamo ragionando su strumenti diversi come quello delle primarie. Qui ci sta, io posso dire tranquillamente, che una volta che ci saranno una concomitanza di intenti sulle primarie, noi come partito, come idea, abbiamo già il nostro candidato per le primarie, che siete lì, che è Rosario De Matteis. Io non ho dato nessuna disponibilità. Si sta discutendo sul probabile candidato alla Presidenza. Si è pensato alle primarie, anche se le primarie per il centro-destra non sono mai state fatte. Si sta lavorando anche per individuare, a mio avviso, anche figure nuove come candidati alla Presidenza. Per quanto riguarda me, io non ho dato nessuna disponibilità, ma se si dovesse arrivare a delle primarie, rappresentando un movimento, non escludo che possa essere anche io un candidato. Abbiamo fatto insieme a tanti amici sulla sollecitazione, tanti amici basso molisani e non solo, abbiamo costituito azione civica molisa, che abbiamo definito come un file aperto. Bisogna mettersi in testa che chi vuole impegnarsi deve darsi alla politica. E ovviamente per fare questa scelta e per andare incontro alle aspettative dei molisani, sicuramente dobbiamo fare tutto questo attraverso una rigenerazione della classe dirigente. Quindi ci vogliono volti nuovi, volti competenti, ma sicuramente attraverso un rinnovamento della classe dirigente, da scegliere in maniera condivisa. Il Movimento 5 Stelle ha ribadito che non si alleerà con nessuno e che la scelta del candidato presidente avverrà, o attraverso la rete o con riunioni degli iscritti. Ma sgombriamo subito il campo da qualsiasi equivoco. Il Movimento 5 Stelle naturalmente non si allea con nessuno, quindi farà la sua corsa come ha sempre fatto, perché ce l'ha nel suo DNA, nelle sue regole, che io personalmente accetto e per questo sto all'interno del Movimento 5 Stelle. Se non l'accettassi non sarei nel Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle non si unisce su persone, intorno a movimenti, oppure simboli, si unisce intorno a delle idee. Quindi se ci sono delle idee chiare, un programma chiaro sul quale questa è la fase importante che stiamo portando avanti in questi mesi con il Movimento 5 Stelle, se siamo in grado di scrivere un programma, aggregarci intorno a un programma, fare magari tesoro di quell'esperienza che abbiamo già fatto in regione, nel bene e nel male, e metterla a sistema, poi dopo chi sarà la persona che farà il presidente, piuttosto che saranno i consiglieri, è diciamo, non dico relativo, ma è in secondo piano rispetto all'importanza di quello che tu vuoi fare. A chiedere a gran voce le primarie del centro-sinistra è stato Francesco Totaro, che non ha risparmiato critiche al governatore Frattura e ha puntato l'indice contro il cambio di casacca di alcuni consiglieri regionali. Quello che oggi governa in questa regione, che era il centro-sinistra, è un centro-sinistra modificato, è un centro-sinistra geneticamente modificato, diciamo così, è geneticamente modificato, per due ordini di motivi. Uno, perché la maggioranza in consiglio regionale è cambiata, è stata stravolta con un colpo di mano da Paolo Di Laura Frattura, in primis, è avallata dal segretario regionale del partito, perché quando tu fai entrare in una maggioranza personaggi che sono stati candidati con schieramenti contrapposti alla stessa maggioranza, vuol dire che tu non tieni conto della volontà popolare, e mi riferisco ovviamente a Migone da una parte e a Monaco dall'altro, ma questo è il minimo, il fatto ancora più grave è che quando tu attui un programma che non è stato scelto dagli elettori, ma che è un programma che tu ti sei messo dopo le elezioni, allora vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato e non funziona. L'esponente del PD, Pino Libertucci, in quota Andrea Orlando, non solo ha chiesto le primarie, ma ha sostenuto l'incandidabilità di Paolo Frattura in generale. Noi porremo due temi, uno il tema con chi andiamo alle primarie e poi il tema delle primarie. Ritengo che il governatore attuale non sia ricandidabile dal PD alle primarie, lo dico con estrema chiarezza, questa è una posizione su cui discuteremo evidentemente all'interno dell'Assemblea, quindi perché, come le dicevo, si è interrotto un rapporto con la cittadinanza, noi auspichiamo di andare alle primarie con delle persone nuove per fare quel rinnovamento della politica a cui tutti quanti obiettivamente guardiamo, anche il senatore Guagliari lo diceva, quindi dovremo pensare a un ricambio generazionale per il bene di questa regione, per il futuro di questa regione. Notevoli infine i contributi in trasmissione su politica nazionale e legge elettorale di Stefano Parisi di Energie per l'Italia e del senatore Gaetano Quagliariello, presidente nazionale di IDEA, il quale ha criticato qualsiasi ipotesi di inciucio tra Forza Italia e il PD di Renzi. Maggiore ascolto dei cittadini per prendere coscienza dei reali bisogni è l'esigenza emersa dal confronto all'interno della Segreteria di Democrazia Popolare che si è riunita per fare il punto sulla situazione regionale. Avvieremo una serie di incontri con gli amministratori sul territorio, ha spiegato il segretario regionale Lorenzo Cancellario. Vogliamo che i cittadini recuperino l'entusiasmo e la serenità per contribuire ad un progetto che faccia uscire il Molise dalla situazione attuale. E torniamo a parlare del proscioglimento con formula piena da parte del Gup di Bari per il nostro direttore Emanuela Petesce e per il magistrato Fabio Papa. Conferenza stampa ieri pomeriggio in cui sono state ricostruite le varie fasi del processo che li ha visti protagonisti. Questa è una storia di miserie umane dove è morta la giustizia e sono state massacrate due persone ha commentato Emanuela Petescia. Ora chi ha sbagliato paghi il servizio di Pasquale di Bello. Assoluzione piena, comma 1. I fatti non sussistono. Lo dico giusto per frenare l'avvio dei soliti espedienti e delle solite furbizie del solito governatore che sta tentando di far circolare l'ipotesi del comma 2 e cioè dell'insufficienza di prove. Il dispositivo è qui a disposizione di tutti non si presta interpretazioni di comodo. Con la conferenza stampa della direttrice di Telemolise Emanuela Petescia si è chiuso il primo capitolo della vicenda raccapricciante e vergognosa che l'ha vista protagonista insieme al magistrato Fabio Papa e entrambi vittime di un'accusa infondata e caluniosa formulata dal presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura e confermata in veste di testimone dal proprio avvocato illegale Salvatore Di Pardo. Entrambi, Petescia e Papa, sono stati assolti con formula piena dal giudice Antonio Diella del Tribunale di Bari perché il fatto non sussiste. Parte proprio da qui il racconto di Emanuela Petescia dalla formula adottata dal Tribunale. Il fatto non sussiste tuona la direttrice. La precisazione fatta da Petescia è importante alla luce del depistaggio messo in atto dal presidente della regione furbizie che vorrebbero far propendere per l'insufficienza di prove. Non c'è stata in realtà nessuna cena, nessuna estorsione, nessuna concussione, nessun abuso d'ufficio e nessun falso ideologico. Siamo davanti ad una storia di miseria umane ha detto la direttrice che ha massacrato due persone, una pagina nerissima della giustizia che ha trascinato sul banco degli imputati due persone innocenti che ad una lettura attenta dei fatti e delle carte in Tribunale non dovevano nemmeno finirci e qui l'affondo tocca il PM del processo Pasquale Drago sul cui operato i protagonisti della vicenda sollevano più di un dubbio. Il racconto di Manuela Petescia si allarga laddove vengono denunciate le anomalie nelle indagini, l'uso politico della giustizia, le manipolazioni dice Petescia effettuate dalla squadra mobile di Campobasso a suo tempo guidata dal dirigente Giuseppe Annichiarico ed infine il castello inverosimile messo in piedi da frattura che ha costruito la propria tesi sulle carte di un altro processo quello traballante intentato al cosiddetto sistema Iorio utilizzando le carte di quest'ultimo processo e trasferendole con una faciloneria da terzo mondo a Bari è la fine della giustizia dice Manuela Petescia che nel frattempo ha denunciato tutti i fatti e tutte le circostanze di questo vero e proprio processo cafchiano ed è qui che si apre il secondo capitolo quello con i veri imputati dice la direttrice Paolo Di Laura Frattura e Salvatore Di Pardo entrambi e questa la sintesi del pensiero di Manuela Petescia dovranno rispondere in sede penale e civile di una falsa cena denunciata circostanza inverosimile a 14 mesi dai fatti e della quale i due non ricordano nemmeno il giorno sullo sfondo di quella che resterà una macchia indelebile nella storia politica civile giudiziaria del Molise resta un interrogativo a cui nessuno si potrà sottrarre frattura le cui falsità sono state smascherate da un magistrato può restare ancora un solo minuto alla guida della regione molise una storia di miserie umane che a mio avviso in qualsiasi altra regione non sarebbe mai nemmeno cominciata anche per il ruolo che avrebbe svolto la stampa e la cosiddetta intelligenza che in Molise con qualche sparuta eccezione non ha alcun ruolo e alcun valore e adesso il commento dell'avvocato Arturo Messere difensore di Manuela Petescia e Fabio Papa ero certo della soluzione ha detto al microfono di Giovanni Minicozzi sul dispositivo emesso dal giudice del tribunale di Bari che ha assolto con formula piena Fabio Papa e Manuela Petescia abbiamo ascoltato l'avvocato Arturo Messere un vero principe di tutti i fori che ha difeso insieme a Erminio Roberto la direttrice di Tere Molise e con Paolo Lanese il PM Fabio Papa abbiamo avuto un risultato ed è quello che io mi aspettavo perché sin dalle prime battute quando ho avuto modo di leggere gli atti della procura della Repubblica di Bari mi sono reso conto che quelle fattispecie di reato molto gravi che riteneva il pubblico ministero di quella città non esistevano quel pubblico ministero ha avuto un comportamento un po' particolare tant'è vero che mi sembra sia oggetto di denuncia da parte del suo assistito Fabio Papa in un dibattimento addirittura affermò che nel caso in cui fossero stati prosciolti con formula piena Papa e Manuela Petescia avrebbe agito d'ufficio nei riguardi di frattura e del suo avvocato Salvatore Di Pardo questo è scritto nei verbali di udienza e lo ha affermato il pubblico ministero nel momento in cui ha chiuso la sua requisitoria è scritto questo qui ad ogni modo il pubblico ministero fa il suo mestiere esercita l'azione penale e dopo di che quello che è importante è che ci si trovi di fronte a un giudice come è capito da noi intelligente colto e sereno e poi la giustizia fa il suo corso lei è stato sempre ottimista sull'esito di questo processo lo ha detto in tempi non sospetti puntava decisamente sulla soluzione con la formula piena che cosa faceva pensare questo la mancanza di prove perché se due soggetti fanno determinate affermazioni a fronte di una prova scientifica chiesta peraltro da noi al pubblico ministero cioè la consulenza tecnica sui tabulati che smendiva categoricamente che c'era stato un qualche giorno in cui queste quattro persone si trovavano insieme cioè Di Pardo Frattura Petescia il dottore Papa a fronte di questa prova ripeto scientifica e beh insomma le parole e trovano il tempo che trovano si discute molto anche in questi giorni sulla circostanza che Fabio Papa Emanuele Petescia non accettarono un confronto che la procura di Bari voleva fare con i querelanti non glielo fece accettare io perché noi non eravamo minimamente informati che il dottore Drago procuratore di Bari voleva appunto fare questo confronto noi ci siamo trovati di fronte a un fatto compiuto mentre erano stati avvisati Frattura e di Pardo noi non sapevamo nulla eravamo andati per rendere interrogatorio io mi opposi categoricamente anche perché dissi che se il confronto andava fatto andava fatto innanzi a un giudice terzo e non davanti a una parte qual è il pubblico ministero lei ha chiese all'epoca il 15 febbraio mi sembra il rito abbreviato per quale motivo proprio perché ero dell'avviso che non c'erano prove e cercavo di liberare come ho cercato di fare al più presto la posizione degli imputati i suoi clienti Papa e Petescia adesso passeranno a contrattacco o no? questo non lo so non lo so e è prematuro per dire quello che faranno Petescia e Papa i carabinieri di Vinchiaturo siamo alla cronaca hanno denunciato 5 ragazzi tra i 15 e i 17 anni residenti in vari comuni della provincia di Campobasso per un furto commesso in un'abitazione di Vinchiaturo qualche giorno fa sono stati individuati grazie alle notizie fornite dai vicini della donna derubata i militari hanno perquisito le loro abitazioni ritrovando i monili d'oro sottratti incidente sulla statale 87 all'altezza del bivio dello zuccherificio del Molise dove per cause da accertarsi si sono scontrate una Fiat Panda e un'Alfa Giulietta per la violenza dello scontro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato le persone coinvolte nelle lamiere tra i feriti trasportati dal 118 all'ospedale San Timoteo ma dalle prime informazioni non sarebbero gravi traffico bloccato in mattinata per consentire le operazioni di soccorso e adesso andiamo al veneziale di Isernia dove un gruppo di cittadini ha organizzato un sit-in per esprimere la propria solidarietà a Lucio Pastore il dirigente medico del pronto soccorso punito dall'ASREM per le critiche mosse alla gestione della sanità pubblica e alla conseguente trasformazione della salute in merce il servizio di Sergio Di Vincenzo diverse le motivazioni alla base del sit-in organizzato davanti all'ospedale di Isernia oltre a esprimere la propria solidarietà a Lucio Pastore colpito da un provvedimento di sospensione dell'ASREM i cittadini hanno voluto contestare anche la volontà di chi gestisce il sistema sanitario di trasformare la salute in merce di spianare la strada a una privatizzazione sempre più incontrollata ed è grave come si evince dai vari manifesti affissi davanti al Veneziale che chi ha denunciato questa deriva sia stato colpito con una sanzione che si pone in netto contrasto con il diritto costituzionale alla libertà di parola la sanità pubblica sta subendo dei gravi danni a discapito delle persone e questo diventa veramente un problema perché ovviamente soddisfare le utenze comincia a diventare quasi una situazione disperata non perché io non condivida che ci sia una sanità privata ma la sanità privata si deve reggere su sostegni privati abbiamo una regione che non funziona che non ha rispettato l'articolo 21 quindi libertà di pensiero e di parole e hanno puntato contro una persona che per fortuna almeno ce n'è una della classe medica che lotta per il bene del veneziale perché ci stanno togliendo tutto noi continueremo intanto ad esprimere solidarità verso il dottor Pastore per una decisione che è iniqua e ingiusta ed è immorale e continueremo anche a lottare affinché la sanità pubblica di qualità possa avere il giusto ruolo rispetto al servizio sanitario regionale ogni volta mi ritrovo a dover constatare che i veri addetti ai lavori quali dovrebbero essere i primi a manifestare questo scempio stanno creando questo muro di omertà e forse non hanno capito da cittadina mi viene da dire che non hanno capito che se questo sistema crolla i primi a crollare appunto saranno loro durante la manifestazione sono state raccolte anche delle firme per chiedere alla ASREM di ritirare il provvedimento punitivo Lucio Pastore è stato accolto con applausi e abbracci dai manifestanti sui giornali ha detto si leggono brutte notizie come quella della mia sospensione ma anche cose positive come questo sit-in mi ha commosso e mi ha riempito di speranza significa che esiste una sensibilità da parte della gente e si vuole cercare di cambiare io voglio mettere in risalto solo che quello che sta avvenendo è essenzialmente un'azione politica perché di amministrativo c'è ben poco o niente politica perché la paura che qualcosa possa interferire con il processo di privatizzazione della sanità monisana deve essere molto alta per cui si vuole dare un segnale non ci fermeremo questa gente va trovando che io vado avanti e io andrò avanti anche fino al livello di corte europea perché i diritti fondamentali vanno difesi vanno difesi per difendere la democrazia Emergenza Neve 2012 a Palazzo Vitale confronto sul nuovo piano di riparto per 3 milioni di euro ad illustrare il metodo di assegnazione delle risorse il Presidente Frattura durante la riunione con i sindaci e gli amministratori comunali Emergenza Migranti ai Serni a duro documento delle minoranze contro l'amministrazione da Pollonio per il no all'istituzione di un centro d'accoglienza gestito dal comune il servizio di Enzo di Gaetano Emergenza Migranti è scaduto ieri il termine concesso al comune di Senna per l'adesione allo Sprar ovvero la possibilità di aprire un centro di accoglienza gestito direttamente dall'amministrazione comunale una scelta che Palazzo San Francesco ha evitato contestata in questo dalla minoranza di sidistra che ha emesso un duro comunicato a firma di Formichelli di Luozio Onorato in cui accusa l'amministrazione da Pollonio di mancanza di coraggio una mancanza di coraggio che produrrà l'invasione incontrollata di migranti Non era necessario il voto del Consiglio in quanto il Sindaco avrebbe potuto comunque aderire allo Sprar fino alla fine abbiamo sperato che oggi era la scadenza del 5 maggio che questo avvenisse ma nell'interesse della cittadinanza di Sernia così come abbiamo rappresentato in comune e nel documento che abbiamo inviato agli organi di stampa non aderire allo Sprar significa sicuramente un disastro per la città di Sernia perché comporterà un aumento del numero degli migranti esagerato e fuori dal controllo C'è anche una colorazione politica voi avete detto che praticamente l'amministrazione si è fatta condizionare da una parte politica a Formichelli Sì perché è un documento molto brutto io l'ho detto subito l'ho detto in Consiglio l'ho detto e ripetuto abbiamo assistito a una pagina di brutta politica perché non mi sembra un documento che possa essere concepito da una maggioranza democratica un documento che è venuto fuori da delle forze politiche che sinceramente il fine non credo sia quello di tutelare la città di Sernia ma quanto piuttosto di far arrivare il più possibile gli migranti e creare veramente del malcontento pesante perché non gestire questi flussi significa far fagocitare la città da un fenomeno incontrollabile ecco appunto un fenomeno che succederà adesso davvero la prefettura e il ministero degli interni saranno liberi di mandare a Sernia centinaia di immigrati oppure solamente così una paura non razionale no la paura non è non razionale la paura è fondata e sono dati il prefetto aveva chiarito che aderire allo SPRAV significava poter soffrire della cosiddetta clausola di salvaguardia quindi un numero limitato controllo del territorio queste parole del prefetto sono state poi messe in dubbio da chi e non so perché da queste leggende metropolitane per cui la clausola di salvaguardia non avrebbe trovato applicazione a fronte di tutto questo e la mancata adesione dello SPRAV comporterà necessariamente che il prefetto sarà costretto a fare dei bandi con i numeri che verranno imposti dal ministero ai comuni che non hanno aderito allo SPRAV per adesso arriveranno quindi 450 se avessimo aderito allo SPRAV saremmo rimasti a 260 perché già i CAT presenti sarebbero stati inclusi nel numero ci potrebbe essere anche la conversione dei CAT in SPRAV si è chiuso con un milione di euro di utile netto il bilancio 2016 della Banca Popolare delle province molisane un risultato lusinghiero che cade nel decennale dalla costituzione dell'istituto di credito molisano sentiamo un milione di utile netto conseguito nell'anno 2016 e questo il risultato lusinghiero che i dirigenti della Banca Popolare delle province molisane hanno portato all'attenzione dei soci in occasione dell'annuale assemblea convocata per l'approvazione del bilancio un appuntamento doppiamente significativo poiché cade nel decennale della costituzione della banca dieci anni sono un termine breve per la vita di un istituto di credito hanno sottolineato i relatori intervenuti ma proprio per questo doppiamente significativo per i livelli e le performance raggiunte 2600 soci 5 filiali di cui 2 in Abruzzo e la prospettiva d'apertura di una sesta a Benevento esempio positivo di localismo bancario la Banca Popolare delle province molisane ha saputo crescere in un territorio investito da una crisi generale che colpisce non solo l'Italia ma l'intero contesto internazionale proprio perché i tempi sono bui l'istituto di credito molisano rappresenta un faro una luce accesa in favore delle imprese e dei risparmiatori a testimonianza di questo percorso virtuoso è arrivato quest'anno anche il premio Menichella conferito lo scorso 17 marzo nella prestigiosa sede del CNEL a Roma grande è la soddisfazione espressa dal presidente della banca Luigi Sansone e dal direttore generale Pompeo Fanelli oggi è assemblea come ogni anno però diciamo c'è anche un senso di celebrazione di festa perché è il decimo anniversario della banca è il decimo bilancio che verrà approvato oggi e devo dire che ormai ho una serie di bilanci positivi quest'anno la banca chiude con un milione di utili dopo aver fatto accantonamenti vari per cui possiamo dire di essere contenti dei risultati che abbiamo conseguito poi in un tempo abbastanza ridotto perché dieci anni nella vita di una banca non sono tanti in questi dieci anni siamo partiti all'epoca dieci anni fa con 1500 soldi oggi ne abbiamo 2600 siamo presenti anche in Abruzzo con due filiali a Vassa e a Pescara abbiamo fatto anche tanto per il territorio per aiutare iniziative varie che cercavano contributi e sponsorizzazioni siamo stati vicini a queste iniziative quindi siamo contenti dei risultati è un evento importante quello di stamattina perché festeggiamo i dieci anni di attività della banca e sono dieci anni che poi si ricollegano anche all'approvazione del bilancio un bilancio che chiudiamo con un utile importante di circa un milione di euro ecco non solo Molise ma anche Abruzzo la banca è presente anche nella regione Cugina sì siamo presenti in Molise e da circa due anni ormai siamo presenti anche in Abruzzo dove abbiamo due filiali a Pescara e a Basto e pensiamo contiamo di continuare in questo processo di crescita lungo la dorsale adriatica soprattutto due i fuori programma all'assemblea dei soci la proiezione di un suggestivo filmato che ha ripercorso i dieci anni della banca ed un premio speciale conferito per i meriti in ambito culturale ad Isabella Astorri presidente della società italiana per la protezione dei beni ambientali domani a Campobasso mancherà l'acqua dalle otto e fino alle prime ore di lunedì in diverse strade sentiamo quali e perché in questo servizio lavori di manutenzione urgente quelli che comunica in una nota il comune di Campobasso Enel distribuzione effettuerà domani nella Cipi San Polo Matese che richiederanno l'interruzione della fornitura di energia elettrica alla centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie dalle otto alle quindici e di conseguenza continuano da Palazzo San Giorgio anche il flusso idrico subirà delle interruzioni in concomitanza con gli interventi dell'Enel si eseguiranno lavori di manutenzione su alcune condotte gestite dall'amministrazione comunale l'interruzione dell'acqua riguarderà la fascia oraria che va dalle otto di domani domenica 7 maggio alle prime ore della mattina di lunedì 8 maggio e interesserà le seguenti strade di Campobasso dunque domani mancherà l'acqua in Contrada Colle delle Api Contrada Colle dell'Orso Contrada San Giovanni in Golfo Corso Mazzini Piazza Caduti del Tiro a Segno Nazionale San Giovannello via Gramsci via De Gasperi via Croce via La Banca via Boccardi via Capriglione via Cirese via Colle delle Api via Delisio via Delle Frasche via Gammieri via Ciccaglione via Crispi via Iovine via Longano via Altobello via Amendola via Barbato via Fortunato via Matteotti via Gammieri via 4 Novembre via Einaudi via Sturzo via Maranelli via Martiri Molisani della Resistenza ancora mancherà l'acqua domani via Monte San Michele via Monfalcone via Monte Grappa via Monte Nevoso via Monte Sabotino via Monte San Gabriele via Monte Santo via Montello via Mosca via Scarano via Rotondo via Pasubio via Piave via Presutti mancherà l'acqua domani via San Lorenzo via Sant'Antonio dei Lazzari via Sicilia via Trotta via Bellini e via 24 Maggio visitare i musei regionali e condividere le foto sui social è l'iniziativa rivolta ai ragazzi molisani denominata Invasioni Digitali domani sarà possibile trasformarsi in Guerriero Sannita al Museo Sannitico di Campobasso grazie alla creazione del liceo artistico Manzu a fare da sottofondo musicale dalle 11 alle 12 e 30 e dalle 16 e 30 alle 18 gli studenti del liceo musicale Galanti a disegno invece ci si potrà immaginare com'era la vita 700 mila anni fa al Museo Paleolitico grazie agli studenti dell'artistico Manu Pella e grande attesa a Colle d'Anchise per la nuova rappresentazione del Pagliard Mai la manifestazione che si svolge tradizionalmente nella prima domenica di maggio domani mattina dalle 8 e 30 Santa Messa nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli con la bededizione del pagliaio caratteristico elemento a forma di cono rovesciato ricco di colore e vegetazione sulla sua superficie a seguire in piazza Europa spettacolo folcloristico ma per tutta la giornata il pagliaro rallegrerà le vie del paese in forma itinerante con canti e balli telaio tubolare e motore centrale la lambretta è uno dei simboli su due ruote dell'Italia che festeggia i suoi 70 anni dalla realizzazione del primo modello il nuovo club regionale del Molise parteciperà con una propria delegazione ad una esposizione di prodotti tipici all'evento internazionale Euro Lambretta in programma ad Adria dal 2 al 4 giugno intanto oggi e domani 14 modelli dello storico mezzo sono in esposizione nella galleria del centro commerciale centro del Molise tra essi anche alcune lambrette molto rare ed altre sottoposte a lavori di restauro o di elaborazione particolarmente accurati bene con queste immagini ci fermiamo è tutto grazie per averci seguito arrivederci e buona domenica grazie per averci seguito